Ha continuato a scaldare i palazzetti con performance mozzafiato. Ma il primo amore non si scorda mai e la voglia di concedere il bis sotto i cinque cerchi di Vancouver 2010 è sempre più forte. Assicuro ai miei tifosi e ai miei fan che possono ancora vedermi pattinare. È vero, ho preso una bella pausa dalle gare per riposare. Per partecipare agli show e creare nuovi programmi. Ma volevo semplicemente concedermi una pausa. Non escludo infatti di partecipare ai prossimi giochi olimpici. Plushenko e Jagudin, dal momento del loro ritiro, in gara fino ad ora non si sono più visti. Ma la storia di questo sport è piena di clamorosi ritorni. Magari c'è ancora tempo per la battaglia degli ultimi zar. Certamente ho sempre pensato di pattinare, di gareggiare, per vincere ogni gara, perché io adoro pattinare. Perché io like to skate.